fabrizio vitale gazzetta dello sport benvenuto innanzitutto volevo partire dalla pronuncia corretta del tuo cognome e poi volevo continuare a chiedendoti sai perfettamente che diversi anni fa un tuo connazionale simon chi è repartito da palermo è costruito da qui la sua carriera vuoi capire se lo conosci se ti ispiri a lui grazie è la persona che cammino di più so che lui è venuto qua da molto piccolo ha fatto cose fantastiche anche è una posizione che gioca la stessa posizione che gioco io quindi voglio imparare il più possibile e fare il meglio possibile ciao benvenuto antonio rosa correre dello sport hai firmato fino al 30 giugno 2027 quanto ti fa piacere quanto ti inorgoglisce sapere che una società ambiziosa e prestigiosa come il city group ha puntato su di te non solo per il presente ma anche in prospettiva futura grazie sono molto contento sono molto fiero del fatto che mi hanno seguito così per tanto tempo e questa società così molto prestigiosa e molto orgoglioso sono molto orgoglioso una sensazione molto sono molto felice di essere qua ciao simon e benvenuti a palermo giornali sicilia salvador rifici allora ti volevo chiedere quali sono le tue caratteristiche migliori dove diciamo pensi di essere diciamo qual è la tua caratteristica migliore e dove invece pensi di migliorare e quindi in questo caso palermo cosa può servire cos'è per te diciamo un punto di partenza un punto di arrivo sono molto bravo con il gioco di possessione anche con il gioco aereo mi piace molto difendere è una cosa che ho fatto sempre è una delle cose uno dei motivi per il quale sono qua è per migliorare la difesa per quello sono qua nel cancio italiano posso migliorare un più però mi piace molto giocare difendere in mezzo o andare anche a destra buongiorno valerio tripi agenzianza la prima cosa che hai pensato quando hai saputo di palermo e cosa conoscevi del palermo e di palermo grazie il palermo sempre stata una squadra grande una squadra conosciuta a livello internazionale ovviamente la il colori rosa nero che sono iconici a livello mondiale e anche con tutti i problemi con tutte le cose che sono successe comunque continua a essere una squadra grande ed è molto orgoglioso di essere qua ciao buongiorno giovanni mazzola gialucadimarzio.com due curiosità la prima hai detto che l'interesse del palermo è già da tempo quindi quando ti hanno detto per la prima volta appunto dell'interesse del palermo la seconda leggevo che all'inizio della tua carriera hai giocato centrocampista quando eri allo stebro e poi sei diventato difensore centrale appunto se ci racconti qualche qualcosa dei tuoi primi passi ho saputo che il palermo mi stava cercando è stato un sogno un sogno per me sono molto contento sempre sono stato molto contento di ricevere questa notizia e per la seconda domanda io all'inizio ho giocato come centrocampista quando avevo 18 19 anni ho cambiato il ruolo per giocare come dire come difensore e questo mi aiuto molto con il possesso di palla con il gioco aereo e anche con con la strategia di gioco un giorno benvenuto a palermo marco cappone palermo today volevo chiederti di raccontarci ancora le tue sensazioni in vista di questa esperienza comunque arrivi in un campionato importante per te è una grande occasione e soprattutto quanto ha influito anche avere alle spalle una società solida come siti gruppo grazie ea cosa a noi se ciò penso personalmente che una sfida molto importante è una competizione è una squadra molto difficile ma devo dare il mio 100 per cento in ogni in ogni momento questo anche crea molto opportunità e voglio contribuire alla squadra il più possibile è ovviamente un orgoglio lavorare ed essere qua per la squadra del palermo anche per il city football club ciao simon benvenuto simone ciappa media goal punto it palermo negli anni ha portato tanti giocatori in nazionale lo stesso simon kier che tu conosci bene è stato ed è capitano della nazionale ci pensi a poter approdare nella selezione danese già con la maglia del palermo grazie il mio sogno giocare per la squadra nazionale è ovviamente un orgoglio per essere avere questo comparativo questo paragone con con simon kier però allo stesso tempo voglio concentrarmi concentrarmi su me stesso voglio creare il mio nome voglio fare un nome per la mia carriera e voglio concentrarmi su questo processo buongiorno simon benvenuto in italia e ruardo ullo blog sicilia in parte già risposto a quella domanda che volevo farti ma te la rifaccio più sinteticamente quali aspettative hai tu in questa esperienza in italia in questo in questi primi mesi che in cui concludere il campionato e a chi ti ispiri oltre a simon kier ovviamente quali giocatori ti piacciono e che conosci che vorresti emulare e superare grazie in questi primi mesi la prima cosa o la cosa più importante che voglio fare è adattarmi alla cultura italiana che è completamente diversa quella quella danese tanto come cultura come stile di gioco che sarà una sfida difficile però però voglio affrontarlo in maniera molto molto importante e se c'è un calciatore che io ammiro a parte quelli della mia squadra e carles puyol per il suo atteggiamento sul campo e anche perché è uno di questi giocatori che da sempre il cento per cento